buongiorno family pink pink family ben ritornate e ritornati sul mio canale youtube io sono francia punto pink e oggi faccio un video ancora più bello e come e come il video precedente che vi ho fatto vedere la passione delle borse che come avete visto sono tante sono andati se non le avete ancora visto mi raccomando andate subito subito a vederlo un guaglino la stellina e oggi vi farò vedere tutti i miei profumi allora di profumicino solamente uno due tre quattro cinque sette otto profumi credo di avvenne di più e li ho contati perché ce l'ho qui dietro che se vuole farlo vedere e alcuni sono di marca altri no comunque il packaging mi piace uno sacco in altri vi farete delle risate perché in un packaging l'ho creato totalmente io ok vabbè vedete che ha comunque vi piace la mia maglietta e di giorgio armani giugno e di giorgio armani giugno ok adesso faccio cascate tutto il mondo faccio cascare yeee madonna perfetto comunque qua c'ho dietro il mio bellissimo cucino di soluna e qualche cascate tutto il mondo mettiamoti qua perfetto perfetto ok dai può andar bene dai ok c'ho questo qui di soluna e questo che non si vede proprio purtroppo è Justin Bieber iniziamo con i miei profumi di volevo dire allora voglio cercare di non farvi rivedere allora per tutto io li metto sopra a questa scatola che l'ha regalata da mia amica e qua c'è un sacco di cose di medie un un barattolo con dentro un olio un olio cioè una spugnetta imbevuto di olio per pulire le scarpe di pelle e poi c'è ovviamente un gel disinfettate di nani di sa detergente generizzante e mani già pronuncia la pala di genocanti quasi tutti un sacco di schede comunque abbiamo la iniziamo allora io inizio allora c'ho questo profumo della e auto lette nato spray della disney natura verde e super cute con il tappino così che ve ne pare poi ho questo qui che era era del papà di mia zia che purtroppo non c'è più dicevo spinkers allora questo è questo profumo questo profumo che veramente è di uomo però è buonissimo poi ho questo qui che se voi sapete legge cosa c'è scritto io no adesso qui mi piace un botto poi ho questo qui che si è attaccato una una figurina di buonissimo